Ciao ragazze e ciao ragazzi, so che sono ancora sistemata in questo modo ma ho avuto il pomeriggio relativamente libero quindi ne approfitto anche per registrare questo video, questo vuole essere il video dei miei auguri di buon Natale vi auguro di poterlo passare nel modo più sereno e conforme al vostro animo, al vostro stato d'animo di passarlo in compagnia di persone che vi vogliono bene, al quale voi volete bene e di passarlo in modo tranquillo, sereno, in pace con voi stessi sembrano frasi fatte, frasi dette tipo da Miss Italia però sono frasi che a volte devono essere dette perché devono essere sentite e quindi veramente ve lo auguro col cuore di passare un Natale con le persone che volete bene, che vi vogliono bene e quindi vi auguro un buonissimo Natale 2017, un dolcissimo Natale 2017 e ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazze, ciao ragazzi, mi sono dato una ditata sul naso, in gamba, ho sparcato la mano, buon Natale! Ciao! Grazie.